Vendite a sottocosto, aste al doppio ribasso, modifiche unilaterali dei contratti, restituzione dell'invenduto. Sono solo alcune delle pratiche sleali fino a poco tempo fa consentite nel settore agricolo, a danno dei produttori e a vantaggio degli acquirenti rivenditori. Da un anno il governo, recependo una direttiva europea, ha introdotto la legge 189 per tutelare l'anello debole della filiera, ovvero gli agricoltori fornitori, come quelli del settore florovivaistico della Versilia, che al pari di altri hanno subito le condotte commerciali scorrette, perdendo guadagni e mettendo a rischio la propria sopravvivenza. L'obiettivo di questa legge è la tutela del prodotto agricolo e di chi lo fa, del suo produttore, la tutela del valore del lavoro che un produttore mette nella realizzazione del suo prodotto e il difenderlo da meccanismi di acquisto che spesso costringevano i produttori a vendere sotto costo o rinunciando alla loro marginalità. La Col di Retti di Lucca ha messo a punto per le imprese versilesi contratti e accordi quadro ad hoc, illustrati in un incontro avvenuto alla Camera di Commercio di Viereggio con i vertici regionali. Strumenti di tutela ora a disposizione del florovivaismo, un settore trainante in Versilia che conta circa 200 aziende specializzate, 2000 addetti fra diretti e indiretti e circa 150 milioni di fatturato all'anno. Oggi grazie anche alle richieste dei diretti interessati delle aziende agricole e alla Col di Retti abbiamo presentato al florovivaismo quelli che potrebbero essere per l'appunto i sistemi operativi, il tipo di accordi da mettere in atto per poter rispondere a quello che la normativa e la legge ci chiede senza però inclinare o mettere in difficoltà il rapporto con i nostri clienti, ma anzi andando a tutelare il nostro lavoro evitando appunto di ricadere in pratiche per noi spesso dannose. Per gli acquirenti sleali il mancato rispetto delle nuove norme può costare fino al 5% del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio con dei minimi di importo che vanno dai 1000 ai 30.000 euro.